Buone notizie da Fiuggi. Nell'ultimo giorno di ritiro nella località termale laziale si è rivisto anche Boulaye Dià. Rientrato ieri sera in albergo, questa mattina il senegalese si è allenato e non si è sottratto a rito delle foto con i tifosi presenti. Dià aveva soffrito di un permesso per un paio di giorni per motivi personali e la società gli ha fatto sentire la sua vicinanza per qualsiasi necessità. Ora l'attaccante africano, a segno 16 volte nella stagione di soldi in massima serie, mette nel minuto di ritorno in campo. L'estate finora non è stata priva di contrattempi per Dià che sperava di poter essere pronto per la gara collaternale il 13 agosto in Coppa Italia, ma che potrebbe essere costretto a spostare in avanti di qualche settimana l'obiettivo. Tornare in campo all'Olimpico sarebbe un bel modo di tornare sulla scena all'esordio del campionato di Serie A, ovviamente mercato permettendo. Intanto domani si torna in campo per l'amichevole con i tedeschi dell'Ausburg, per la seconda inizia del memory del Angelo Irvolino, Paolo Susano Rallarosa al completo, in porta debutterà in Granata Costil, Ochoa si sta allenando al Merirosi e potrebbe anche essere convocato per domani. In difesa mancherà Danieluc, mentre ci sono buone notizie per Bron, che ha svolto una serie di esami supplementari dopo il malessere avvertito nei giorni scorsi. In mediana dovrebbe essere disponibile anche Maggiore, mentre in attacco non c'è al momento grande abbondanza. La prevendita per domani procede a rilento, l'incasso sarà devoluto all'Alzalerno che, grazie ai proventi, lo scorso anno ha potuto acquistare un'automobile per via Vail, il servizio di taxi solidale per i pazienti che non possono raggiungere autonomamente le strutture ospedaliere per le terapie. La vettura sarà inaugurata ufficialmente prima della partita. In questa seconda edizione l'Alzalerno si propone di raccogliere fondi per raggiungere l'obiettivo di portare l'ospedale a casa dei pazienti ed implementare così il progetto di continuità assistenziale e cure domiciliari particolarmente importante per un territorio esteso come la provincia di Salerno.